Ciao a tutti i belli e brutti qua da Roby2394, oggi continuiamo con Xenogears, subito iniziamo con la rottura dei coglioni di battaglia. Ora mi spiegate perché ci sono dei pesci in mezzo al deserto, quindi stavo dicendo è da una vita, probabilmente un mese, o forse sto dicendo una cavolata non lo so, mi ricordo tanto che c'era una donzella che ci ha abbandonato del deserto, però non mi ricordo dove dobbiamo andare e soprattutto come si entra in questo posto, ok. Perché ci siamo andati non lo so. Questa è Sparta da Agile. Sto facendo solo caso ora che il suo nome Shitan, cioè Shit, cioè proprio se è una merda. adesso si vede come è vivace. Sto organizzando... ah ok. ora, un attimo. Ma chi l'ha mai detto? che cosa? mouse è pure qui? no, no. ma chi l'ha mai detto? mi sta salutando? eh sì, proprio questa è nella schermata nera. la nostra chiave è rotta? no, ovviamente. questo ora farà una tipo spia incredibile. quindi ora devo andare nell'altro... dica dica... per l'asporto. 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 Lascia fra me, aspetta qui Cioè ce l'avevo accanto veramente Che posto non è? Che cos'è quel coso? Attenzione, ho bigs le battute Volano insulti Ma com'ero se n'è andato? Coglioni codanno La figa era qui Stato aspettando di rientrare Dopo di analizzarla Androla nel deserto Androla nel deserto Ti prego non farmi rivedere quella scena Ah pensavo si fosse bloccato tutto Eh si ce la puoi proprio fare Come li segui? Dritti Tutto lui sta facendo L'avevo anche perso e vista qui Ecco Che cos'è? Sembra una puntata dell'esplorando il corpo umano Un Beyblade gigante Magari ora devi seguire qualcosa? Ah non lo so Ah penso che essermi perso Che cos'è? Ah, proprio così? Sì, è una pipa. Ecco. È ora. Sì, è una pipa. Sì, è una pipa. Quanta esperienza è andata? Non può essere. Sì, è una pipa. Come funziona la sua faccia? Sì, è una pipa. Sì, è una pipa. Sì, è una pipa. Perché è un cattivo? Ah, quindi è un piano abbastanza normale. Già, mi sta spolerando già tutto ora. No. No. No, ancora no. Chi fa emergere? Sì, è un vero drago. Sì, è un vero drago. No, ancora no. No, ancora no. 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 e quindi col turbo on se non è solo più veloce perchè non li tolgo niente si deve fare l'onda energetica non si deve fare ah dovevo fare solo l'onda energetica bulbo ma con quale facce fei è partito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti no ma è per forza Drago no ora in questo momento sono le aure fessi di quelle Rokashiro questo è Raoul hanno lo stesso ciuffo non è parezza che questo è il padre grazie a tutti 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 anche se io volevo salvare prima grazie a tutti Non dirmi che devo affrontare questi tipi, veramente, che... Grazie a tutti. Ma chi sono questi? Questo è il Capitano Blu di Dragon Ball. Alfa e Beta, no? O Alfa e Beta, no, ovviamente. Questo mi sa tanto di compagno che si aggiunge. C'è almeno dalla musichetta. Il Capitano Blu di Dragon Ball. Il Capitano Blu di Dragon Ball. Sì, però noi che siamo in scena dobbiamo fare questo passaggio. Una scopia in culo. Questi cambi, però. Dov'è il save point? C'è tutto lui ha calcolato. Non va. Ma... 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 Ha salto giù. Non l'ho visto ma non si sa mai, ho saltato lo stesso Oh, salvataggio Vedremo cosa succederà prossimamente, se ci salveremo oppure no Ma credo proprio di sì, se no il gioco è un po' troppo cortino mi sembrerebbe E ci vediamo quindi al prossimo video, ciao!